Lasciate 5 mi piace questa volta se volete un video di Among Us in Minecraft Buon day a tutti ragazzi, io sono RS92Gamer e benvenuti in questo nuovissimo video di Regisco ai Reddit di Minecraft Benvenuti, questo è il episodio 2, ragazzi avete lasciato dei mi piace più di quanti avevo chiesti Quindi eccoci qua con un nuovo episodio dopo un bel po' di tempo Ma ragazzi, prima di iniziare una piccola pausa pubblicitaria Ragazzi, finalmente abbiamo attivato in modo decente il mio canale Discord Abbiamo davvero tantissime cose, tipo le fantastiche emoji personalizzate con tutte queste qua Sono fantasticissime, ve le faccio vedere totalmente tutte Guardate quanto sono belle, in questo caso sono quelle gratuite Ovviamente ragazzi, poi ci sono anche queste qua, queste tre Sono delle gif, solo che non avendo fatto un nitro al server non le possiamo usare Neanche io che sono admin Però ragazzi, abbiamo davvero tantissime cose Abbiamo la pagina dei meme, con tantissimi meme, ok? Tantissimi meme Poi rank, come vedete abbiamo il bot Che ci dice, che ci dice, che ci facciamo Se fate i chat e scrivete, eh, punto esclamativo rank Potete vedere il vostro rank di Discord, ragazzi In caso del mio livello 1 Vabbè Poi ragazzi, abbiamo tantissimi canali di testo In general dove vedete tutto, sostanzialmente Minecraft dove non c'è nulla Roblox dove non c'è nulla Texture pack Del pubblico, le mie robe delle texture pack I meme, come vi ho fatto vedere prima Twitch Dove c'è il canale Twitch Andatelo a seguire Siamo in live domani Non su MotoGP19 Ma su Minecraft Dove potete farmi esplodere Sì Potete farmi esplodere Facendo cose attraverso la chat C'è il plugin Quindi poi andate a leggere E Poi abbiamo davvero tantissimi ruoli Ragazzi, come potete vedere Abbiamo due fantastici bot, ragazzi Questo che serve più che altro a me Mentre questo, ragazzi, è Vexera Qua avete tutti E dico tutti i comandi Che potete fare Per esempio Se volete ascoltare una canzone sul Discord Basta che entrate in un canale Di Di chat Casuale Schiacciate più play E il nome della canzone Per esempio Faccio Non lo so Sunflower Non lo so E ragazzi Vi esce qua E lo ascoltate Attraverso Discord Adesso la chiudo Perché mi dà il copyright Veramente una roba pazzesca Quindi ragazzi Trovate il link qui sotto In descrizione Per entrare Sul canale Discord Veramente Affrettatevi tutti Perché è veramente Una roba spaventosa Tornati a noi Ragazzi Eccoci Su Reddit Ragazzi Andiamo a vedere Il primo Reddit Di oggi Andiamolo a vedere Praticamente Questo tizio Ha fatto Ehm La scritta Di Minecraft Di Minecraft Di stile Pixar Che roba Fantastica Ma che roba Fantastica Che ha ragazzi Vediamo questo Come vede Un'ape Su Minecraft Una roba spaventosa E qua c'è Steve Che rompe Alveare E lo uccide Cos'è questo? Cosa sta facendo? Non capisco Un modo per Trolleare i villager Che non ti danno Buone cose Nel commercio No No Dai Questa qua è cattiveria Dai No Questa è cattiveria Questa è cattiveria No No Vabbè Non ci credo Cosa si inventa La gente Ragazzi Ha creato L'Europa In scala 1 230 Tu sei pazzo Ha fatto una statua E dentro una montagna No Stai scherzando Stai scherzando? Stai scherzando? Ragazzi è noiosissimo Cioè non è che noioso Ma Cioè dopo un po' ti rompe Fare tutte ste robe E dopo un po' Alla fine Fanno saltare la montagna Con 200 TNT Ed ecco La struttura No No vabbè Non ci credo Ma la gente È pazza Cosa succede Se cadete Nelle vecchie versioni Di Minecraft Cos'è? No Ma che trip Cadete all'infinito? Ma è intrippantissimo Ma cosa? È una roba mega intrippante Amo un jazz in Minecraft L'event Guardate l'event Tutte in nederite No Questa mappa qua ragazzi Me la scarica anch'io Lasciate 5 Mi piace questa volta Se volete Un video In among Di among us In Minecraft Cosa sta facendo? No Cosa è riuscito a fare? Ha cercato di riprodurre Le immagini di Minecraft No Ragazzi questo devo farlo anche io Nella Gamer Vanilla Ha dato A una volpe La Una Testa di Wither E sembra che ha la barba Lo devo fare anche io Nella Gamer Vanilla Ha creato una balina Che poi sarà stata animata Da Joy Brixie No Tu sei pazzo Questo lo metto come in miniatura Piccola Che bella La piccola barca Ma che bella No Che cosa No ragazzi Da rivedere Bisogna rivederla Che cosa Soddisfacente No 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 questa No Cioè questa devo downloadarmela In qualche strano modo Allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Voi invece iscrivetevi al canale Mi raccomando Attivate anche la campanellina Lasciate un bel mi piace Condividete questo video Con tutti i vostri amici Andate a vedere i canali di Twitch Siamo in live domani Con Minecraft Dove potete fare esplodere il mondo Dove potete fare tantissime cose Tra i commenti nella chat Andate a vedere i siti Che dovete dare la prossima schermata E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao